Noi siamo particolarmente grati per l'onore che viene fatto alla nostra città e speriamo che sia l'inizio, più o meno la presentazione, tutte le volte che vorranno fare sarà il nostro ospite e spero che avranno ancora la vostra respira. Ma per attraverso le condizioni di questo genuto, che oggi è rappresentato, sa, ecco, venga. Per l'avere iniziato in Alezzo un'attività di grandissima rilevanza clinica che spero possa trovare nella nostra città e vedere assieme al signor Presidio tanti altri canzoni, non che abbracchi a tutti i numeri, però se dovesse capitare, se vengono ad arresto, vanno a grande piacere alla nostra città. Anche perché so che quando lei va a spazio per la città, per i canzoni postali, mi chiedono un po' grazie. Le ragazze dicono che è molto bello, ma questa la signora non ce l'ho detto. Ma non è bello, ma è bello. Bene, io vi ringrazio la città, il signor Presidiente, vi faccio salvo pure per la sua attività agonistica, che gli avvo con grazie a loro, vi parlate anche di un presidente, di un'italia, di un'alto, di un'alto. Noi abbiamo la sessore allo sport, alla quale adesso scelgo la tua parte, la tua parte, è qui, a qui. Grazie. Grazie per ringraziare il presidente che ha venuto accorgere il compito dell'administrazione del Sina, e a nome e quello di tutto il mondo, grazie per l'organizzazione, per lo sport e per l'organizzazione. Grazie. Grazie. Siamo qui per festeggiare il Presidiente, ragazzi. Siamo qui per l'organizzazione del Sina, per il quale avrei voluto essere insieme ai miei compagni. Spero, per quello, volevo ringraziare a tutti voi perché mi siete accolti in una maniera straordinaria, questo non lo potrò sicuramente mai dimenticare. E personalmente spero di poter tornare più forte di prima. Sì, ciao. Grazie. 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 Grazie.